In Germania è caduto il muro di Berlino l'89, non era un uomo di sinistra, era Kohl, conservatore. Il gruppo dirigente della Germania occidentale ha deciso che l'unità della Germania era la priorità assoluta. Hanno deciso dalla sera alla mattina la convertibilità del marco della Germania Est, che non valeva niente con il marco della Germania occidentale. Per 20 anni hanno investito 100 miliardi di euro, non hanno risolto tutti i problemi, ma l'unità della Germania è stata acquisita, il reddito pro capita della Germania ex orientale è molto vicino a quello della media nazionale. Se penso che noi in Italia stiamo da un anno, da un secolo e mezzo, e stiamo ancora ad aspettare che i fondi sviluppo e coesione dopo un anno arrivino nel sud. Il ministro Fitto in queste ore ha fatto una dichiarazione, veramente una forte opposizione di opposizione, assunto, io volevo ricordare che il ministro è lui, stiamo attenti che se no spendiamo i soldi qui poi paghiamo. Ehi, devi spendere tu, mandaci i soldi. Se vi facessi ascoltare i discorsi fatti dal ministro un anno fa, sono identici. Tutta una grande truffa per cercare di togliere al sud le uniche risorse che devono mandare per legge, per l'80%, i fondi sviluppo e coesione. Da un anno non arriva un euro.